Da un anno, dopo appunto aver lasciato i locali di Giacchia Nova, tra molti i nostri clienti anche storici è la prima volta che vengono qua, perché siamo noi, no? Che veniamo da voi di solito, per cui insomma ci sta anche. Però appunto siamo molto orgogliosi della nuova sede, speriamo che piaccia a voi tanto quanto piace a noi anche lavorarci, in vero parola? Certo. Ok, il corso, come avete visto dal programma, è diviso in due parti. Nella prima parte vi disceneremo, se si può dire, il regolamento appunto, diciamo, il protagonista della giornata, 2069, finalmente in attenzione, e vedremo anche il regolamento dei claim nutrizionali e salmistici. A quel punto facciamo una brevissima pausa, sigaretta, perché sono da baggisti e appunto bagno, brevissima proprio, così almeno continuiamo.